Vi aspettiamo dove naturalmente al calmino pellegrinaggio Mornizza giunto alla sesta edizione quando dal 22 al 24 di settembre dove innanzitutto il 22 da casa madre all'istituto Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato sino alla cascina di San Michele dove la famiglia Chiappone ci ospiterà faremo una camminata, un cammino pellegrinaggio e saremo accolti nella piccola cappella della loro famiglia poi ci sarà una buonissima merenda per tutti. Sabato il 23 il cammino comincerà molto presto alle 6 e 30 di mattina la partenza sempre da Nizza, casa madre e giungerà fino a Silvano Dorma con una meta intermedia a Strevi pernottamento a Silvano Dorma Domenica partenza dall'istituto Nostra Signora delle Grazie in Pullman sia per i camminatori che non hanno potuto partecipare il giorno precedente sia per chi vorrà giungere a Mornese direttamente in Pullman Raggiungeremo tutti insieme Silvano Dorma dove ci saranno già i pellegrini che sono partiti sabato quindi chi vorrà proseguire a piedi alla volta di Mornese in cammino pellegrinaggio potrà farlo gli altri invece continueranno e proseguiranno il viaggio in Pullman arriveremo a Mornese quindi col Pullman e visiteremo i Mazzarelli, la casa natia di Madre Mazzarello e il museo missionario inoltre quando giungeranno i pellegrini che stanno camminando faremo insieme il pranzo del pellegrino nel pomeriggio alle 3 avremo l'onore di avere la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Luigi Testore e concluderemo così il nostro cammino pellegrinaggio naturalmente vi aspettiamo tutti, numerosi le famiglie sono invitate a partecipare con i bambini soprattutto nella giornata di venerdì e di domenica e i grandi camminatori il sabato ma l'invito è aperto tutti, sempre vi aspettiamo grazie a tutti